Senti, ma ti ricordi quando facevamo Travel Competence? Mamma mia! Ci invitavano a tutti i festival, ci scrivivano, ci facevano i complimenti. Che bei tempi! Che è? No, è il segnale della riuscita, il limite della riuscita. Pagavamo con la macchina, mi ricordi, con tre posti avanti. Cos'era? Eh, mi ricordo. Sì, sì. Ci chiamavano il TG2, Coming Su Television, Los Angeles, Marsiglia. Ti ricordi? Marsiglia! Marsiglia, sì. Ti ricordi che tu facevi il registratore? Scusi pure su IMDB, ti ricordi? Travel Companion Series. Ma non solo su IMDB, anche sul mattino. Sul mattino, eh, su Wild. Mamma mia che è successo. Fantastico. E ti ricordi quegli attori che recitavano con noi? Come erano bravi. Eh, quelli bravi, sì. Flavio. Flavio Ignenzi. Flavio Ignenzi. Bravissimo. Come faceva? Contento! No, contento! Un'attrice da panico, da paura. Chiara Clemente, mamma mia. Che donna, che attrice, una diva. Ma non ci stanno più attive, come c'è l'attrice così. Non ci stanno più attrice così. Io ho visto, non ci sono... Ma non ci sono mai state. Non ci sono state, mai. Come faceva? Vai giù! Vai giù! Vai giù! Vai giù! Vai giù! Una mano così. Ma che è quello? Grazie! Quello che cos'è? Ma no, dai! Era un uomo! Che attrice, che voce! E perché quell'altra, come si chiamava? Flavio Ignenzi. Flavio Ignenzi? Era un uomo, no? Era un uomo. Era un uomo. Era un uomo. Era un uomo. E quella lì, Francesca Monaco. Facemmo che lei voleva fumare la sigaretta in macchina. Caspita! Bravissima! 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 Bella e brava, sì sì sì! Ma che è un museo? È un museo! Un museo! Un museo! Non puoi fumare! Non puoi fumare! Bello, bravissimo! Vabbè, non fungamo! Ti ricordi? Sì sì sì, bello. Eppure quello là che era bravo, quell'attore napoletano, come si chiamava? Caramillo! Alessandro Caramillo! Mamma mia! Come faceva lui il parcheggiatore! Ma quello, guarda, quello... Quello si vede che è un livello... Ma quello ha fatto carino! Ma... Ma sta... Non lo so, però... Ha fatto che... Cioè... Era uno proprio che si vedeva che... Sul palcosceni... Ma mamma mia! E ascolta! E Cino di Omayuti! Faceva sempre il C! Ma mamma mia! Quello è un grande! Quello è un grande! Quello è un grande! Quello è un grande! Io continuo a seguirlo quello, sai? Sì! Lo segui? Sì, lo continuo a seguire! Ah, se lo segui la chiappa! Vabbè, poi... Sì sì! Quello era bravo! Che faceva? Mi ricordo, che faceva? Quella faceva la parte di quella ragazza... L'asseggista di Giuliano Catanto! L'asseggista di Giuliano Catanto! Sì, mi ricordo! Che poi ci scherniva dicendo che noi eravamo due pazzi! Sì sì sì! Forse omosessuali! Diceva le parolacce però! Io dovevo mettergli il bip! Ti ricordi? Non mi ricordo! Che faceva quei due sbip! Sì sì sì! Era bravo! Quei capelli belli! Elegante! Stava elegante! Giuliano Castaldo! Che faceva le musiche! Che musicista! Che fine musicista! Che fine! Che fine ha fatto questo! Era un bravo musicista! Bravo musicista! Come faceva quella musica? Vengo a prenderti anni sette... No, non mi ricordo! Non ti ricordi? Non ti ricordi? Come faceva? Vengo a prenderti... Non ti ricordi? Come faceva? E poi... Se non ti ricordi dove faccio fare? Eh bene, tornello qual è? Travel companion... Che belle cose! E poi è finito tutto! È finito tutto così! Pfff! Un bollo di sapore! Tristezza! Per quell'incidente! Quella volta! Pina d'Italia! L'attrice! Quella lì! Come ti ricordo! L'ultima puntata! No! Cerco di non ricordarmi! Si fece esplodere! Che poi non esplose niente! Accademmo! No! Come se non morivamo! Guarda! Io avrei continuato! Sì! Non fossimo morti! Ma lei non è morta! Lei non è morta! Comunque mi ha detto uno del sindacato che è quasi sicuro che ci sarà una risurrezione! Di chi? Dei morti! Eh! Ma questa cosa qua si dice! Ogni anno si dice! Però è in ordine alfabetico! In ordine alfabetico! Eh beh io sono carcavato! Tu la volete anche! Eh! E sai tramite quante generazioni ci sono! Eh! Un bel spettacqua! Un bel spettacqua! Un bel tempo qua lo passa!